Eugenio Bianchini, direttore sportivo della Pro Desenzano, al quale appunto chiediamo se è soddisfatto di aver portato qui Maspero alla Pro Desenzano e perché proprio questo giocatore qui a Desenzano? Parto a risponderti dalla seconda, perché questo giocatore? Abbiamo necessità di aggiungere della qualità, anche se questo gruppo è già buono di per sé, però ritengo che questo abbia quelle qualità che ci possa far fare un salto ulteriore. L'uomo dall'ultimo passaggio, l'uomo che anche sui calci da fermo può determinare, ritengo che nel calcio moderno il 70% delle partite vengono sbloccate su situazioni del genere, quindi in automatico avere lui oltre che a un giocatore come Fogliate, che speriamo rientri al presto, possa fare la differenza. Perché? Perché ritengo che sono persona, lo conosco da un po', era da quest'estate che lo cercavo, poi abbiamo optato per altre scelte e lui è rimasto dov'era. Ritengo che sia un personaggio che dia lustro alla Piazza di Desenzano, è un professionista serio, uno che ha voglia a 40 anni di rimettersi in gioco. Ritengo che per le sue qualità e per come è fatta la squadra, 40 anni siano ancora pochi. Per cui non penso di aver preso un giocatore sul Viale del Tramonto, ma bensì un giocatore che ci fa fare un ulteriore salto quantico. Me lo auguro, lui se lo augura, è caricatissimo, come lunedì come mi hanno detto amici, mi hanno detto alla lista in mano, lunedì sera con il direttore generale, con Cristiano, abbiamo pensato bene di andare a chiudere tutto. Sono molto 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 contento, speriamo poi di avere i suoi frutti, questo è ovvio, poi alla fine il calcio come in tutte le cose, il campo è il reale verdetto, però per adesso direi che ce lo godiamo. Il giocatore era contento di venire a giocare a Desenzano, non era il giocatore che stavamo cercando in questo momento perché nella nostra rosa mancava questo tipo di giocatore, visto che comunque nella rosa che abbiamo fatto durante l'estate qualche defezione, qualche infortunio ci aveva portato a qualche problematica. Siamo contenti di portare qua un giocatore che comunque ha un'esperienza in Serie A, avendo giocato comunque, avendo vestito varie maglie di squadre di Serie A come il Torino, la Sampdoria, la Cremonese, gli inizi. Per cui con questo colpo di mercato si chiude anche il nostro mercato invernale, nel senso che la rosa poi viene confermata per quella che è attualmente. Ha molta voglia da parte sua di mettersi in mostra, nonostante non sia più giovane, ma la cattiveria, la voglia di giocare a calcio, quella c'è ancora come se fosse un bambino, per cui quello che serve a noi in questo momento è questo, per cui diamo il benvenuto Riccardo Maspero. Allora mister, che reazione ha avuto appena hanno comunicato questo nuovo acquisto? Un acquisto di caratura alta, che la società cercava di portare a casa, nelle caratteristiche che sicuramente non si pensava nel giocatore fino alla settimana scorsa, già dai mesi di settembre-ottobre. Nel momento in cui siamo andati in difficoltà abbiamo pensato di aspettare, pur che sia di qualità superiore. Penso che più di così non si potesse sperare di avere. È già pronto per la squadra già da domenica, eventualmente? Dove pensa di schierare in campo? Difensore sarà difficile poterlo schierare. Da domenica prossima si potrà utilizzare tranquillamente dal centrocampo in qualsiasi ruolo. Penso che si possa trovare una posizione dove potrà dar molto. Con Luca Dallanoce, che ora fra i suoi atleti si trova un giocatore che ha militato in Serie A e Serie B. Atleticamente come ti sembra questo nuovo acquisto del Desenzano? Atleticamente mi sembra in buone condizioni. Dal resto ho giocato fino a un paio di settimane fa. E nei primi due allenamenti che abbiamo fatto insieme ho visto che comunque si muoveva senza problemi. Quindi direi che bene. Come è Maspero in campo come compagno di squadra? Abbiamo giocato insieme un anno e mezzo. Un giocatore che sicuramente è messo nelle nostre categorie, ha una qualità superiore agli altri. Quindi se la squadra si muove bene e riesce a metterlo in condizione di giocare con i suoi tempi diventa un giocatore fondamentale. Fondamentale anche per il tuo gioco perché in coppia l'anno scorso avete segnato, mi sembra, molto. Diciamo che nelle ultime partite che abbiamo fatto l'anno scorso, nel momento decisivo, abbiamo fatto bene. Però i gol vengono perché dopo anche la squadra si muoveva insieme a noi. Quindi c'era un buon gruppo anche là. Però sicuramente diverse volte mi ha messo in condizione di fare gol, quello sì. Abbiamo qui Giovane Cancarini che Maspero lo conosce molto bene perché solo poche domeniche fa ha subito un gol proprio su punizione dal nostro nuovo acquisto. Com'è stata quella punizione? È stato un fulminaggio di Sereno. Se l'è provocata, se l'è preparata, se l'è messa giù bene. Ho messo una barriera lì, tutta tranquilla, messa molto bene. Poi ha fatto una finta di mettere in mezzo, ha fatto qualcosa e l'ha messa tra l'incrocio e le mie mani. Io non so com'è, boh. Quindi avrai modo qui in allenamento di divertirti e ti allenerà sicuramente a parare le sue punizioni. No, no, con lui non ci gioco più. Quando ricalza io mando tutti a centrocampo, non paro, metto un 1-0 e ne vado io. Siamo qui con uno dei giovani della Prodese Enzano, Fusi, che esordisce nella categoria di eccellenza e si trova dopo pochi mesi ad allenarsi con un campione che ha giocato in Serie A come Maspero. Cosa ti sembra questa cosa, che effetto ti fa? Beh, sinceramente ogni volta è un'emozione perché comunque allenarsi con gente che ha fatto la Serie A ti mette sempre un po' di riguardo comunque e anche averli in squadra sarà un valore aggiunto per i risultati che verranno. Poi ci può sempre aiutare noi giovani a crescere aiutandoci con qualche consiglio che comunque ci davano anche i vecchi, come si suol dire, della squadra. Cosa vuol dire avere un giocatore come Maspero qui a Enzano? Eh beh, Maspero tanta roba, ragazzi. È stato professionista, sicuramente ha ancora voglia di giocare, lo sta dimostrando in allenamento. Per noi speriamo che sia l'uomo che ci fa fare il salto di qualità. Abbiamo bisogno di lui. Siamo qui con Silvano, dirigente accompagnatore della Pro Desenzano, qua alla squadra ormai da parecchi anni. Cosa vuol dire per la città di Desenzano avere qui un giocatore come Maspero? Beh, diciamo che è importante perché può portare molta visibilità, un personaggio di spicco, un giocatore che può fare molto, che può dar molto e speriamo che possa far fare anche il salto di qualità. Speriamo che riesca a dare un grosso contributo sia ai giocatori un po' più anziani, soprattutto a quelli più giovani. Siamo fiduciosi, siamo molto contenti di avere un personaggio di questo livello e che possa darci molto. Grazie. Grazie.